buona giornata con un nuovo lavoro il lavoro odierno è molto importante della vecchia tipologia ho usato la stregoneria italiana e non segue il filone logicamente dei rituali che ho iniziato da poco questa è un'altra tipologia ha un rituale forte che incide su queste persone queste persone sentiranno a cui viene fatto questo lavoro sentono molto colpito il chakra agina grazie grazie grazie